Allora, in questa ola, se ce la facciamo, vogliamo vedere il teorema della divergenza e il teorema di Stokes. Per parlare del teorema della divergenza e del teorema di Stokes dobbiamo prima definire che cos'è un campo vettoriale. Un campo vettoriale non è altro che un'applicazione si da Rn o da una rettola di Rn ha valori in Rn. In particolare ci interessa la unica 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 vettoriale da Rn. Diciamo N uguale 3, caso N uguale 3. Quindi, come tale, se vi ricordate, un'applicazione da Rn in Rn era un diffeomorfismo, qua sotto certe ipotesi. Quindi non è altro che un grammiometrico di Rn, se vogliamo, però lo stiamo guardando sotto una luce diversa. Allora, cosa facciamo? Un modo per disegnare un campo vettoriale da Rn di Rn è questo. Siccome Cdx è un elemento di R3, qua si è interpretato come un vettore, mentre x viene interpretato come un punto. Allora, cosa fai? Tu disegni sul punto x l'immagine Cdx come vettore. Ok, quello che fate non mi ammettere il protetto. Chiaro? Allora, ovviamente tu qui non puoi disegnare tutte le immagini per tutti i punti, ma disegni secondo c'è il tregole. No? Allora, disegni nel senso che tu potrai scegliere in ogni area o in ogni zona dello spazio soltanto alcuni punti su cui disegnare le immagini. A questo punto, qual è la densità dei punti da scegliere? No? Mi scelgo in un relicolo questi punti? Oppure, ci sono delle regole ben precise. Poi, perché questo consente di disegnare il nostro campo senza che le freccette si vadano a sovrapporre, però ci dà un'idea di come è fatta sta funzione. Allora, innanzitutto questa è una funzione da R3 in R3, quindi ho tre componenti, psico 1 di x, y, z, psico 2 di x, y, z, e psico 3 di x, y, z. Usiamo la notazione, quella con tre coordinate. Poi, qua ci mettiamo pure un aperto A, invece in generale che è R3, e poi supponiamo che sia quattro e meno 5 di A. Adesso, per un campo, quindi, allora, nel caso generale A per N per N, possiamo definire la divergenza. Quindi, la divergenza non la definisco nel caso A N uguale a 3, la definisco qua nel caso generale. Quindi, nel caso N generale, qui abbiamo A N uguale a 3, a destra di questa linea. A sinistra di questa linea, abbiamo x uguale x1, x1, ok? Chi è la divergenza di psi? Per definizione. È la somma per i che va da 1 A N di dpsi con i in dx con i. Attenzione che qui le componenti sono A N, psi di x uguale a psi 1 di x, psi n di x. Quindi, io sto facendo la derivata della componente iesimo del campo rispetto alla coordinata iesimo. Siccome ho esattamente tante componenti, quante derivate, quante coordinate, posso fare, posso far muovere questi indici in parallelo. Faccio muovere gli indici in parallelo, faccio la somma, e questa per definizione è la divergenza. Allora, nel caso A N uguale a 3, chi è la divergenza di x? È la derivata di x1 in dx, più la derivata di x2 in dx, più la derivata di x3 in d0. È un caso particolare, perché? Semplicemente perché x1, x2, x3... Nel caso A N uguale a 2, nel caso A N uguale a 2, chi è la divergenza di dps? è uguale a la derivata di x1 in dx, più la derivata di x2 in dx. Ok? Soltanto che stavolta avremo solo x sarà x1 in dx y, e x2 in dx y. Perché andrà da r2 in r2. Quindi poi abbiamo A N uguale a 3, poi abbiamo A N uguale a 2. Ci siamo fino a qui. Le funzioni sono sempre C1. Adesso, sempre A N uguale a 2, A N uguale a 2 è uguale a 2. andiamo a scrivere le formule di Gauss-Green che riguardano la x1, andiamo a scrivere la formula di Gauss-Green per quanto riguarda la prima formula di Gauss-Green, e per x2 andiamo a scrivere la seconda formula di Gauss-Green. Cioè, supponiamo di avere un insieme t contenuti nella lingua, eh? Un insieme normale, oppure un insieme che si possa decomporre il numero fino di insieme normali, come abbiamo visto a suo tempo. E allora andiamo a scrivere. Cosa ci dice le formule di Gauss-Green? Allora, l'integrale esteso a t della derivata di x1 rispetto a x in dxx, no? Questo qua è uguale all'integrale sulla frontiera di t di x1 per ni1 in dx. Integrale pulviligno di x1 per ni1. Ni1, se vi ricordate, è l'inversione della normale esterna prima componente. mi uguale a mi1, mi2 versore normale esterna a di t. Normale alla puntiera di t esterna perché punto adesso è esterna. Andiamo a scrivere quindi anche la seconda formula. Però la seconda formula invece di applicare la x1 appliciamo la x2. Noi abbiamo due formule, abbiamo due componenti nel campo. La prima formula la appliciamo alla prima componente, la seconda la appliciamo alla seconda formula. Quindi la seconda formula integrale esteso a t di dpsi2 di dpsi2 in dy perché questa più questa è la divergenza di dpsi2 è uguale all'integrale stesa alla funzione di dpsi scalare ni in dx perché psi1 ni1 più psi2 ni2 sono esattamente la somma di questi due tempi gli dà esattamente psi scalare ni. Psi è un vettore il mio è un vettore come si fa quando staia dove c'è? Si1 ni1 più psi2 quindi siamo in R2 Ora questa qua si chiama integrale della divergenza sul volo questo qua si chiama questa qua si chiama flusso del campo avettoriano si chiama integrale del flusso sulla superficie ma quella quale superficie è che sta in avanti? Si chiama così perché questa è tutta la figura questa è solo la sua frontiera ok la terminologia viene dal caso tridimensionale quindi questo è un integrale pieno vedete in Dx Dx non è un integrale più filineo superficiale invece questo è un integrale più filineo che è fatto sulla frontiera quindi senza colpoferire le formule di Gauss-Green ci danno il terreno della divergenza viceversa il terreno della divergenza applicato al campo psi 1 a 0 dà le formule di Gauss-Green le due cose sono equivalenti le formule di Gauss-Green che abbiamo dimostrato in caso bidimensionali sono equivalenti al terreno della divergenza bidimensionali ma quest'uguaglianza ha senso anche in Rn in generale? la risposta è sì solo che noi possiamo dare un senso a questo soltanto in R3 soltanto in R3 perché il problema è l'integrale sulla frontiera la frontiera di un oggetto n dimensionale è un oggetto n-1 dimensionale ora noi abbiamo definito a malapena le superfici in R3 e abbiamo ancora non abbiamo definito ma le definiamo subito non ci vuole niente abbiamo definito solo l'area della superficie però è possibile come era possibile definire non mi ricordo se l'ho fatto a suo tempo ma è facilissimo definire l'integrale superficiale ok? allora qui cos'è un'integrale superficiale in R3? non è un integrale che è poco profondo ma è questa cosa qua vi ricordo che cos'è una superficie voi avete ma è un integrale superficiale ma è un integrale superficiale allora voi avete fi contenuto in R2 poi avete fi da t a valori in R3 quindi quindi t era contenuto in R2 e le coordinate queste direttore le chiamavano Q e Q se vi ricordate fi fi di un fu fi di T lo chiamiamo S è il sostegno della superficie e fi era una conzione di superficie regolare ci voleva che fi rispetto alla parte intera di T fosse iniettiva poi pretendevamo che fi fossi di classe C1 e poi pretendevamo che fi e fi v il vangolo della matrice fi u fi v dove questi sono derivati di fi rispetto a fi 1 fi 1 fi 3 questi sono derivati di fi rispetto a v fosse sempre due però non u v appartiene allora faccio un termine ok in certi casi per forza partendo in certi casi non possiamo avere questo rango se la funzione non è in attiva sulla frontiera ok l'area di s mi ricordo cosa sottotietro l'area di s è l'integrale esteso a t di fi esterno fi in norma in u v quello che non abbiamo verificato noi è che se ho due parianalizzazioni equivalenti l'area di s non cambia l'avevamo fatto con le gru l'abbiamo fatto con le superfici non l'abbiamo mostrato però non cambia più o meno funziona come per le gru semplicemente un po' più adesso se vogliamo fare un integrale superficiale cosa ci vuole ci vuole che s debba essere il contenuto in a poi ci vuole una funzione f che va a sta in r3 questi stanno in r3 f va a valori in r allora chi sarà l'integrale lungo s allora questo qui noi lo rappresentiamo l'integrale lungo s di 1 in desigma si in desigma è la metodaria questa roba questo qui l'integrale lungo s di f in desigma di f di vamo in desigma scriviamo così è uguale per definizione all'integrale lungo phi di f di phi di 1 v in phi u estel phi u in desigma in desigma in desigma quindi questo è l'integrale sui quindi se basta semplicemente che c'è la funzione da 1 la stessa cosa l'integrale dell'area che dà l'area va a integrare la funzione se ci mette una funzione viene l'integrale allora con questa notazione questo teorema rimane vero cioè l'integrale adesso abbiamo phi un cambio vettorial diciamo appartenente a c1 di a v è un contenuto in a v compatto diciamo uguale alla misura della propria parte interna così evitiamo schifezze varie immaginate una porzione di spazio che però chiusa allora l'integrale lungo v della divergenza di psi in dx dx dz è uguale all'integrale sulla frontiera di v vista come sostegno di una superficie come posizione di superficie regolare sostegno di una posizione di superficie regolare di psi scalare in in d sigma rimane vero questo non lo dimostriamo questo qua in realtà è vero anche in rn però per essere vero in rn bisognerebbe andare a definire l'integrale l'area di una superficie n-1 dimensionale in rn un pochino l'avevamo accennato vi ricordate che in quel caso io ho n-1 componenti e poi e ho n coordinati scusate ho n-1 coordinati ed n componenti e allora ho tanti questi vettori e devo andare a fare la matrice di questi vettori deve avere sempre n-1 chi è il vettore che farà l'analogo di questo qua è il vettore ortogonale allo spazio da s generale che praticamente posso andare a identificare se metto con 1 con 2 con n sopra e poi ci metto i vettori sotto e poi faccio determinante simboliche la matrice e quell'integrale però dovrà essere l'integrale n-1 dimensionale quindi questa cosa si può generalizzare come si può generalizzare questo teorema si può generalizzare a ogni dimensione quindi questo teorema qua vale in r2 vale in r3 vale in rn diciamo noi non andiamo oltre le parole in questo discorso anche perché non lo dovremo mai applicare a r4 e r5 quindi lo appliciamo solo a r3 ma vale anche rn quindi questo discorso quando vi servirà per qualche corso lo stesso teorema funziona quello che ripeto sarà un pochettino difficile l'interpretazione di questo integrale che sarà su una superficie n-1 dimensionale ok quindi questo qua lo facciamo non lo dimostriamo diciamo la dimostrazione si può fare ma ci stiamo a perdere anche perché semplicemente non aggiunge particolari idee andiamo invece a definire che cos'è il rotore di un campo vettoriale allora in questo caso dove in poi n uguale a 3 quindi il rotore non lo fate se n uguale a 6 il rotore lo fate solo se n uguale a 3 chiaro quindi adesso sto parlando della situazione in realtà c'è un modo di generalizzare questo tipo di formula ha dei nomi particolari per n uguale a 3 per via della fisica perché la fisica ci interessa nel caso soprattutto n uguale a 3 c'è un modo matematico di generalizzare questi discorsi a n qualunque che però richiede lo studio delle k forme differenziali allora questo lo accenno soltanto non lo posso fare perché va oltre lo scopo del corso noi abbiamo studiato quelle che abbiamo chiamato forme differenziali in realtà sono le 1 forme differenziali le 1 forme differenziali se vi ricordate erano fatte apposto per essere integrate un po' le curve erano meglio di integrare le curve linee nel senso che tenivano anche conto del verso di percorrenza della curve se io percorro la curva verso di percorrenza opposto per integrare l'ultima forma differenziale come la curva cambia sempre cos'è una k forma differenziale non posso usare una definizione ripeto perché andiamo oltre lo scopo del corso ma è una cosa che è costruita apposta per essere integrata lungo una superficie k dimensionale allora avete visto che in R3 io ho superfici bidimensionali poi ho curve unidimensionali per esempio dove si attaccavano due superfici lungo una curva ci posso integrare una 1 forma differenziale lungo una superficie per integrare lungo una superficie ci vorrebbe una 2 forma differenziale e quella non la posso decidere per adesso quindi questo discorso mi limita però nel caso di un'altra non abbiamo bisogno per enunciare certe cose delle due forme differenziali ma possiamo enunciare anche ricomento l'integral però per enunciare un teorema che ci serve abbastanza importante dobbiamo ricorrere al concetto di rotore allora che cos'è il rotore di un campo vettoriale come la divergenza è questa la divergenza adesso non è più un campo vettoriale ma è una funzione scalata perché questa è una funzione scalata funzione scalata quindi sono tutte e tre a valori inerro quindi la sono a valori inerro il rotore invece è un nuovo campo vettoriale fortunatamente voi avete già fatto l'elettrotecnica quindi adesso è n ugual 3 il rotore di si è determinato se forico di questa matrice qua ci abbiamo le comuni oppure x chiamiamole x e z in tre versori qua ci abbiamo dnx dnx dnz e qua abbiamo si 1 si 2 si quindi è un nuovo campo vettoriale che è espresso in questo cancello qui sotto quindi lungo io ho d dc3 in dc3 in dx dc3 in d0 x poi più dc1 in d0 x meno dc3 in dc3 in dc2 in dc4 in dc2 in dc2 in dc3 in dc2 se vedete qua ho cambiato segno perché quando faccio il determinante più, meno, più ho sviluppato il determinante come se fossero dei numeri secondo la minorità in realtà quando vado a fare il prodotto il prodotto significa applicare questa derivata questa è la definizione formale poi si scrive così perché è più combatto però la definizione formale è questa qua non ci sta questo è il numero allora adesso dovete capire questa cosa qui voi avete F prendete una funzione da R3 F di classe C in R allora voi potete fare il gradiente gradiente di F un campo vettoriale vada R3 in R3 anzi adesso prendiamo la di classe C poi io posso fare per prendere un campo vettoriale Cx posso fare il rotore di C da guarda che mi sembra un campo vettoriale e infine posso fare dato Cdx chiamiamolo qua chiamiamolo qua un altro campo vettoriale Cx un altro campo vettoriale posso fare la divergenza di 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 x ok allora guardate bene diciamo se io faccio questa trasformazione cioè mi muoto questa è una funzione in questo caso ho un campo vettoriale o un nuovo campo vettoriale in questo caso ho un campo vettoriale e ho una funzione scalata allora guardiamo le dimensioni il numero di componenti questa ha una componente da una componente passo a tre questo ne ha tre questo ne ha tre il rotore gliene fa e cambia il campo però gliene fa conservare tre perché un nuovo campo vettoriale c'ha sempre tre componenti la divergenza invece fa il contrario fa passare da tre a una componente la non c'è scalata quindi le dimensioni di queste diciamo il numero dei componenti di queste funzioni qua è uno in questi casi è tre in questo caso è tre e qua è uno chi sono questi numeri? i coefficienti binomiali questo è tre su zero tre su uno tre su due tre su tre allora questo potrei creare un linguaggio però ci vorrebbe tempo ci vorrebbe avere una media di uno e non ce l'ho per parlare di questo corrisponde a una uno forma differenziale chi era una uno forma differenziale era il differenziale ok? l'operazione che fa passare dalla funzione alla sua differenziale si chiama un differenziale anche l'operazione che fa passare dalla forma differenziale corrispondente a un campo a una uno forma alla due forma corrispondente al rotore del campo quindi noi non vediamo la differenza vediamo sempre campo e campo perché le componenti sono sempre tre in tre ma se andassimo a parlare di forma differenziale la forma differenziale corrispondente a questo sarà una uno forma la forma differenziale corrispondente a questo si indica sulle superfici e sarà una due forma ok? allora che stavo a dire pure quella si chiamerà differenziale sì soltanto che si chiamerebbe differenziale stesso anche questo è un differenziale stesso però passiamo da una due forma a una tre forma una tre forma a un'unica componente perché le dimensioni scendono da tre adesso questo non lo possiamo capire quello che possiamo capire è che c'è un teorema generale che dice che ogni volta che c'è la carità abbastanza regolarità fate il differenziale esterno due volte sulle k forme differenziali il differenziale esterno è fatto due volte consecutivamente da zero allora vediamo un po' se questo coincide con questo schema cioè io dico che se applico il rotore non ha un campo qualunque se lo applico a un campo qualunque non mi verrà a zero ma se lo applico a un gradiente mi deve fare a zero oppure se faccio la divergenza ma non di un campo qualunque lo faccio di un rotore mi deve fare a zero vediamo se allora supponiamo che f sia c2 perché se no non posso fare nulla e andiamo a fare il rotore del gradiente di E quindi andiamo a fare rot grad F quindi andiamo a fare EX EX EZ qua ci mettiamo E intervista e qua ci mettiamo derivata di F rispetto a X derivata di F rispetto a X derivata di F rispetto a Z e devo fare la definizione uguale uguale allora lungo EX cosa ho? ho la derivata seconda di F fatta prima rispetto a DZ e poi rispetto a DY questa questa è stata fatta lì quindi quando ho la derivata di DX ci viene un'ambizione di più quattro meno la derivata seconda di F fatta prima rispetto a Y e poi rispetto a Z o più EX allora qua ho derivata eh parziale di F fatta prima rispetto a X e poi rispetto a Z meno la derivata parziale di F fatta prima rispetto a Z e poi rispetto a X più EZ che moltiplica la derivata parziale questa è una derivata seconda seconda di F fatta prima rispetto a X e poi rispetto a X meno la derivata seconda di F fatta prima rispetto a X e poi rispetto a X ho studiato un po' la grafia e vi faccio la derivata comunque vedete che per te la nata c'è la stanza tutte queste derivate sono sempre e quindi sempre quindi R di grado di F fa semplice andiamo a vedere le picco di rot quanto fa allora ho inopportunamente cancellato il rotore ma quello che ho inopportunato qua A A A A A Z A Z Z A Z 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 meno e x più z più e x più e molti e x più z meno e x più più questa non ci serve più quindi la posso cancellare e z e z che moltiplica e x più x meno e x più x ok adesso questo è ρ di y andiamo a fare la divergenza ma di questo campo vettoriale non di un campo vettoriale in genere andiamo a fare la divergenza di ρ di y allora che devo fare? naturalmente supponiamo che il campo vettoriale sia di classico c2 allora che devo fare? la prima componente la devo derivare rispetto a x quindi devo fare d in dx di questa d x d in dx meno d in dx meno d in dx più la seconda componente la devo derivare rispetto a x d in dx d più in dx meno d in dx più la terza componente la devo derivare rispetto a x cioè che abbiamo d dx d in dx meno d in dx d in dx adesso andiamo a controllare controlliamo compagnia per compagnia la psi 1 dove compagna? qua derivata seconda rispetto a z prima di y qua compagna derivata seconda rispetto a y rispetto a z ma col meno quindi per schwarze sono uguali sono opposti si è lì e sta in posto la derivata di psi 2 psi 2 compare qua che è la derivata seconda prima rispetto a z prima rispetto a x compare anche qua la derivata seconda prima rispetto a x qua rispetto a z là compare con b poi compare con più se va e analogamente la compagna in psi ci siamo derivate seconda qua compare prima rispetto a x qua rispetto a x col meno qua prima rispetto a x qua rispetto a x ma col più sono uguali quindi come questo fa 0 anche di di ro di si qualunque fa sempre 0 allora questo l'avete usato in elettrotette e in fisica dove mi pare dicendo che i cambi che radini sono irrotazionati e i radici hanno più recente l'avete già usato l'avete già visto l'avete già in realtà questo è un caso particolare di un teorema che dice che i teori sono certe punti sempre 0 cioè quando faccio il differenziare esterno due volte quando faccio il differenziare esterno in una forma viene una 2 forme quando faccio il differenziare in una 2 forme prima 3 forme e così via questo nel linguaggio dei cambiatori differenziare sono tutti e due casi particolari e è lo stesso del non è una cosa diversa è lo stesso del va bene allora cosa c'è rimasto da fare allora dobbiamo andare a enunciare e non so se la dimostrazione la riusciamo a fare oggi ma vediamo un po' un altro teorema non quello della divergenza ma la cosiddetta formula distorsi Allora, la situazione è questa qui. Noi abbiamo la nostra superficie che è parametrizzata da un'unzione T tramite la parametrizzazione T. Ricordate, T sta nel piano U questa è T e questo sta nel Poi questa superficie è contenuta in un aperto di L3 A e poi abbiamo un'applicazione un campo vettoriale Psi definito su A a valore in L3 che è un campo vettoriale a Psi per comodità e un piano di classe C2 in realtà tutti questi teoremi sono veri però diciamo in contesto più generale però bisognerebbe parlare in un contesto non sempre solo di funzioni quindi però non lo posso fare perché non abbiamo un strumento in questa Allora, quindi Psi è di classe C2 Allora, il rotore di Psi è un campo ed è di classe C2 perché è definito per abitare derivati Allora, io dico che se faccio l'integrale superficiale di rotore di Psi scalare di in desima questo è uguale all'integrale su Ds della seguente forma differenziale di quella che si chiama la circolazione di Psi Psi 1 in Dx più P2 in Dx più Psi 3 in Dx Questo è il flusso poi ci metterci un più adesso questo più lo rispondiamo questo è il flusso del rotore questo è la circolazione attenzione che questo qua non è la frontiera di S la frontiera di S è S questo si chiama un porto di S Allora, questo qua dovresti già capire che è il porto di S quando io nella mia parametrazione di T parametrizo S i punti delitati di T parametrizo S i punti della frontiera di T parametrizo il porto di S cioè è l'immagine che è S è uguale a F non come sostegno come sostegno come curva ma è un tesa che viene parametrizzato in modo come si essendo un sostegno quindi una curva sostegno a curva diciamo la curva anche sul volo deve essere una curva regolare quindi qui anche la parametrizzazione anche sulla frontiera di T una superficie in generale no possiamo avere che la frontiera di T collassa in un punto per esempio io posso diciamo parametrizzando la superficie sperica far collassare la frontiera di T e poi la no qua invece no qua voglio però quella di T si è regolare perché ci devo fare un integrale questo è un integrale più pilinio un integrale più pilinio di una forma differenziale attenzione che però qui c'è scritto che la forma differenziale giustamente quando la vado a integrare su una curva l'integrale dipende dal verso di percorrenza allora c'è scritto verso di percorrenza positivo ma che significa verso di percorrenza positivo mica qua abbiamo anti-orario e orario perché stiamo in un integrale se lo guardate da sopra è anti-orario se lo guardate da sotto è orario lo stesso verso del percorrenza allora come si fa? allora il discorso va considerato in coppia con ni ni adesso non c'è un interno di un esterno in generale se ni se s è un pezzo di superficie che stai in percorrenza diversori normali ne ha due e non possiamo distinguere l'interno o l'esterno allora come possiamo distinguere la situazione il verso positivo è il verso corrispondente al verso anti-orario per chi? per un osservatore che si mette lungo ni che ha il vettore ni che gli passa dai di verso a destra proprio se mettete la persona qua allora questo deve vedere la nuva c'è un importo di essere percorso di verso anti-orario se invece lo mettete di sotto lo vedete al contrario ma allora cambia segno eh però cambia segno pure di qua e quindi sono sempre uguali è chiaro quindi questa è la forma di sto anche prima ho dimenticato di dire questa è sto sto invece andiamo a scrivere la divergenza l'integrale su volume u della divergenza di y uguale l'integrale su dv di y scala n in d sigma questo è la divergenza il problema della divergenza allora studiamo solo le due formule questa qua abbiamo detto non la dimostriamo proprio questa la dimostriamo domani domani è l'ultima cosa che ci è rimasta la dimostriamo poi facciamo un paio di combi questo qua è un'equazione di bilancio questo qua si chiama l'integrale del sursi sulla superficie un campo qui non c'è il tempo quindi si dice un campo stazionario ci sono solo le variabili spaziali corrisponde a una situazione in cui c'è un certo flusso costante questo flusso costante quindi per unità di tempo è misurato da questa integrata facciamo un esempio sì non solo ma lo vedi ogni giorno la tv allora se tu hai un flusso costante allora un giorno hai una notizia dici c'è un flusso costante di immigrati 200 mila l'anno diventeremo un tot milione sta misurando che c'è un flusso questo flusso va verso l'utero poi un'altra notizia dice c'è un flusso costante di immigrati che vanno fuga dei cervelli 50 mila 200 mila eccetera eccetera allora supponiamo che all'interno della zona la quantità che si sta aumentando o diminuendo rispetto al flusso invece rimanga costante ok che vuol dire che corrispondentemente ci devessero allora supponiamo che quest'anno abbiamo 200 mila immigrati 50 mila persone che sono immigrate per altri fatti per cui questo flusso lungo la fondera è rimasto 150 mila negativo supponiamo però che il numero di abitanti in Italia sia rimasto costante che significa che quest'altro integrale deve compensare deve essere uguale a flusso e la divergenza come sia si può avere per esempio si durava un numero di nascite maggiore del numero di morti più o meno la situazione in Italia questo qua di morti si durava le nascite perché qua c'erano stati 200 mila immigrati 50 mila immigrati quindi avevamo un flusso netto 150 mila immigrati che farebbero aumentare la popolazione ma se gli italiani fanno 150 mila figli in menti rispetto a quelli che muoiono allora tu hai che il numero di persone rimane costante questo è per i cambi stazionali per i cambi in cui non c'è accumulo per cui la quantità sottointesa dal campo diciamo la dià scalare sottointesa dal campo diciamo di cui l'aumento misurato dall'integrale del flusso lungo la diciamo la frontiera è costante e più o meno effettivamente d'altro canto il tema della divergenza lo conoscono bene pure non so se in tutti i luoghi di diciamo turistici ma sicuramente alla legge di Versailles la conoscono benissimo perché ti facevano pagare caramente sia l'acqua sia quando dovevi andare a bagno quindi loro sapevano che siccome non puoi accumulare troppo liquido all'interno ogni flusso in entrata siccome non c'è divergenza deve corrispondere a quale flusso in uscita quindi pagare sia caro sia la bottiglietta d'acqua sia quando dovevi andare a bagno quindi ci guadagniamo due volte la formula di Stokes è diciamo un'altra cosa che dice in particolare che si è andato a fare l'integrale del flusso lungo una superficie questo è uguale l'integrale della circolazione di psi lungo il polvo della superficie in particolare se vado a fare l'integrale del flusso del rotolo lungo la superficie chiusa quindi senza bordo allora immaginate di avere una superficie sferica chiusa questa la potete separare in due mezze superficie sferiche una di sopra e una di sotto quando andate ad applicare la forma di Stokes i due bordi li dovete percorrere in verso o opposto quindi vuol dire che quando esattamente l'integrale del flusso lungo la superficie chiusa deve fare zero e questa è la forma integrale di questa forma differenziale cioè che l'integrale con l'ambulvo superficie chiusa del rotore faccia zero significa la divergenza del rotore e quindi questo diciamo questa formula è perfettamente come la di questa chiaro quindi va bene c'è rimasto da dimostrare Stokes altre osservazioni particolarmente agute in una linea di parla quindi per oggi possiamo finire qua la dimostrazione di Stokes è un semplice cambio di variante non sarà ce la togliamo in 20 minuti lasciamo va avanti forse la togliamo così domani mattino e basta